Aria pulita Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata della nostra trasmissione Aria pulita. Come tutti i giovedì dedichiamo l'edizione delle 12 alla salute e al benessere. E oggi vogliamo parlare di yoga, una pratica particolare, una pratica complessa che noi cercheremo di capire un po' meglio insieme al nostro ospite in studio. Abbiamo con noi Federica Gazzano che è una ricercatrice spirituale. Federica viaggia da quando aveva 17 anni, ha viaggiato molto in Oriente, e ha studiato anche parecchio per quanto riguarda queste tecniche, queste pratiche che ora insegna. Bene, io vorrei chiedere a te di spiegarci un po' meglio che cosa si intende quando si parla di yoga. Yoga può essere inteso in vari modi. Può essere inteso come una pratica fisica, perché aiuta certamente tutti gli organi a funzionare meglio, aiuta a rendere la muscolatura più sciolta, più libera, più flessibile, le articolazioni migliorano nella loro mobilità. Quindi può essere intesa come pratica fisica, però può essere intesa anche come una pratica spirituale. Allora, se si intende come una pratica più complessa, possiamo pensare a essere in inverno, immaginiamo di essere in inverno, con un sacco di maglie, una sopra l'altra perché abbiamo molto freddo, e invece vogliamo andare a scoprire che cosa c'è sotto sotto, sotto sotto addirittura a livello della pelle, forse anche a livello dell'anima. E quindi per andare a cercare che cos'è l'anima e che cos'è l'anima in rapporto alla creazione, in rapporto a Dio, sostanzialmente queste grandi domande che si fa all'uomo, c'è questa pratica dello yoga possibile da seguire. Quindi si può seguire attraverso, dunque, la liberazione da tutti, diciamo, i disturbi fisici attraverso i movimenti del Hatha Yoga, quindi le posizioni di yoga che conosciamo, sono quelle che conosciamo meglio qua in Italia, se vogliamo. Però si può andare anche più in là, quindi a esplorare che cos'è il respiro e che cos'è il respiro in relazione alla vita, perché sappiamo tutti che quando nasciamo incominciamo a respirare, e per questo nasciamo, e quando moriamo smettiamo di respirare, quindi il respiro stesso è vita, e la vita è energia, quindi si va a esplorare tutto il campo energetico, allora attraverso lo yoga si migliora la propria energia vitale, quindi si invecchia di meno, le cellule proprio cambiano la loro struttura, diciamo, la loro ossigenazione, vengono ossigenate diversamente, quindi invecchiano meno velocemente, e poi ci si ammala anche di meno, nel senso che è possibile gestire meglio proprio la propria energia vitale, quindi si può anche evitare di ammalarsi completamente, quindi è un'ottima pratica per la prevenzione. Quindi diciamo che l'uguaglianza yoga-ginnastica in realtà è limitata, è solo una parte, ci sono delle differenze fondamentali anche con quelle che possono essere poi l'attività di ginnastica o l'attività aerobica. Sì, è una pratica molto limitata, se la pensiamo soltanto nel campo del corpo fisico, perché sì, è vero, è molto bella, perché i muscoli si allungano, però per esempio è molto collegata appunto alla respirazione, quindi già è un campo, quello della fisicità, vissuto un po' diversamente dalla semplice pratica che si fa in palestra, in palestra poi si lavora anche molto velocemente, infatti in modo aerobico, mentre nello yoga, lo yoga non è aerobico, è anaerobico. Quello yoga ha anche molto a che fare con il campo emotivo, le emozioni, un altro maglione che ci si può togliere, ci si può liberare delle fatiche emotive anche, quindi chi soffre di molto stress, è sempre agitato, è nervoso in qualche modo, sia per il lavoro, sia per le sue problematiche personali, può avvicinarsi allo yoga, perché può migliorare la sua condizione. Se una persona è molto stressata e ha sempre la testa piena di pensieri, per esempio, non riesce a fermare la testa, non riesce a fermare la mente, lo yoga è molto utile, perché ci sono delle pratiche che hanno a che fare con il suono, ci sono delle pratiche che hanno a che fare con la concentrazione, la famosa meditazione di cui si parla tanto, e sono molto utili per calmare l'attività mentale. E sono attività, ad esempio, che possono essere praticate in una seduta di yoga, quindi con uno spazio adeguato, ma che poi magari servono durante tutta la giornata? Esattamente, sì. In genere gli studi di yoga sono posti tranquilli, dove c'è una certa pace, perché bisogna comunque, ecco, non è una pratica che si fa in palestra con la tv, piuttosto che la musica nelle cuffiette, ecco, non si fa in questo modo. Però... È possibile comunque ritagliarsi il proprio spazio per qualche esercizio anche in altre situazioni? È possibile, anzi, è auspicabile che una persona porti nella vita di tutti i giorni questa esperienza, assolutamente sì. Prima mi incuriosiri perché dicevi che lo yoga permette anche di invecchiare un po' meno velocemente, come una crema antirughe. Assolutamente sì, come una crema antirughe, sì, sì, sì. Ma come agisce? Agisce a livello molto profondo cellulare, perché agendo sulla respirazione, quindi gli esercizi si fanno in modo molto lento, quindi serve per qualsiasi età, quindi possono avvicinarsi sia i bambini che gli adulti, le donne in gravidanza, gli anziani, gli ammalati anche possono lavorare con lo yoga, certamente magari non faranno delle posture fisiche, ma di altro genere. E essendo una pratica molto lenta e che è molto collegata all'atto respiratorio, si vanno a stimolare l'ossigenazione delle cellule e l'ossigenazione del sangue, diversamente dal solito, no? E quindi le cellule vivono meglio e si riproducono meglio e magari non si sviluppano malattie degenerative o c'è, non si può dare la certezza, però comunque è una pratica che aiuta molto a evitare di sviluppare malattie anche gravi. E quindi in questo senso, tu dici, può anche essere utile per la prevenzione? Assolutamente, sì, è una grande pratica per la prevenzione, grandissima. Però lo yoga è certamente tutto questo, un qualcosa di fisico, un qualcosa di mentale, ma è anche una tradizione che viene supportata da testi, si studia anche su questi testi? Sì, si studia anche perché appunto andando avanti a togliendosi un altro maglione, possiamo andare a studiare, perché è comunque una pratica anche di studio, se vogliamo, se uno si appassiona, poi piano piano va avanti negli studi e può andare ad avvicinare tutta la pratica mentale, l'attività mentale, no? Allora, siccome abbiamo detto che lo yoga è volto alla conoscenza dell'essere profondo, quindi di che cos'è l'anima e di dove va a finire l'anima dopo la morte del corpo fisico, o come è nata la creazione, lo yoga è nato così, perché gli indiani sono appassionati di questo argomento e quindi si sono fatti carico di questa esperienza, hanno portato, hanno concepito delle pratiche esperienziali, quindi una pratica di cui si deve fare esperienza, non è una cosa mentale, e l'hanno portata naturalmente anche sui libri, nel senso che con l'andare del tempo, dal tempo in cui è nato Cristo in avanti, naturalmente molte persone hanno fatto l'esperienza e quindi hanno anche potuto scriverla, e quindi molti di noi studiano anche dei testi che hanno a che fare con questa scienza, perché si tratta di una vera e propria scienza. Tu hai viaggiato molto, hai viaggiato in Oriente, ma non solo, la percezione che ci può essere in Italia di queste pratiche rispetto agli altri posti che tu hai visitato, qual è ancora limitata oppure piace e viene praticata in realtà con più frequenza? No, direi che attualmente lo yoga ha preso abbastanza piede in Italia, ci sono delle grosse scuole importanti legate a dei maestri spirituali indiani, no, no, ha preso piede. Naturalmente ci sono vari livelli di conoscenza, no, quindi uno si può avvicinare allo yoga semplicemente perché gli interessa avere a che fare con il proprio corpo e allora cerca degli insegnanti, delle scuole che abbiano questo tipo di taglio, come un po' in tutti i campi, insomma, ognuno ha il suo taglio e quindi invece ci sono altre scuole che hanno un taglio più spirituale e che propongono un tipo di studio dello yoga sia fisico che spirituale, c'è un po' per tutte le tasche. Senti, abbiamo parlato fino adesso di una sorta di benessere però fatto da se stessi sul proprio corpo, sulla propria mente, sulle proprie emozioni. Esiste però anche un benessere che è ricevuto, che è percepito e che arriva da qualcos'altro, come ad esempio possono essere i massaggi. Anche questo è un tema legato in qualche modo? Sì, è un tema legato. Io personalmente nella mia vita l'ho legato molto perché insegno sia yoga che pratico massaggi orientali sostanzialmente perché mi piace molto l'Oriente e i massaggi orientali anche loro sono fatti, come dire, astrati, se vogliamo. È una buona metafora questa perché comunque prendono in considerazione la persona nella sua vita.